Sono particolarmente contenta di onorare quest'impegno che avevo preso e che mi scuso di non aver potuto portare a termine come avrei voluto, ma Gioi Marino è assolutamente un maestro per questo. Sono Rita Forzi, direttore generale dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni, delle Tecnologie e dell'Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Dipartimento Comunicazioni, come molti di voi sanno, la faccio breve, questo Dipartimento era l'ex Ministero delle Comunicazioni, quindi ha preso tutte le competenze che erano del Ministero delle Comunicazioni. Non ve la faccio più lunga perché questa era solo la presentazione per un saluto assolutamente a tutti. Vado avanti, mi inserisco con gli interventi. Mi dicono che appunto i relatori hanno già terminato e ora ci sono degli interventi programmati, no? Di cinque minuti. Posso partire con te? Sei il primo? Mi torna? Giovanni Seppia? Ok. Non voglio... Sei il primo, non ho sbagliato. Giovanni Seppia, Eurid. Buonasera a tutti e ringrazio Laura e Stefano per l'opportunità di questo intervento. Mi chiamo Giovanni Seppia, mi occupo delle relazioni esterne presso il punto EU, Eurid, che è il consorzio che appunto gestisce il suffisso punto EU in nome e per conto della Commissione Europea. Non parlerò di Eurid, non parlerò del punto EU, parlerò di un lavoro che viene fatto a livello di CENTRE. CENTRE è un organismo europeo che racchiude i registri per la maggior parte europei e si occupa della diffusione di best practices a livello proprio di registri. Nel 2008 il workshop che CENTRE portò all'IGF a Hyderabad era un workshop che si intitolava Il giro del mondo in 8 CCTLD. Era un workshop abbastanza significativo perché voleva dimostrare come la gestione dei registri fosse e dovesse rimanere di competenza locale perché i locali erano proprio le esigenze delle varie comunità che i registri nazionali, i country code, top level domain managers rappresentano. Quest'anno il workshop che CENTRE porterà nell'ambito dell'IGF è un workshop un po' più a livello sociale. Si intitola, parafrasando un famoso film, Lost in Non-ASCII Translations. e riguarderà la possibilità, che peraltro ormai non è più tanto remota, di avere in rete non solo top level domain nei caratteri ASCII, quindi il .it e il .eu, così come noi li vediamo scritti adesso, ma in un futuro, ripeto, non tanto remoto, la possibilità di avere questi suffissi in caratteri non ASCII, in caratteri quelli che tecnicamente vengono definiti internationalized domain names che quindi saranno presto disponibili anche a livello di top level. Fra l'altro questo workshop si terrà in un giorno, e questo è stato il puro caso che ci ha assegnato questo giorno, che è il 16 novembre, che è il giorno in cui ICANN ha proposto che parta il processo proprio per immettere in rete l'IDN a livello di top level. Allora, questo documento è un documento che ICANN ha presentato per la discussione del board di ICANN al prossimo meeting di ICANN a Seoul, però la data che è contenuta in questo documento è proprio il 16 novembre, il 16 novembre è la data in cui ci sarà questo workshop. All'interno di questo workshop avremo come rappresentanti e come speaker non solo rappresentanti appunto di registri, tipo il .SD, il Sudan, o la Cina o la Grecia, che sono tra i principali promotori dell'IDN al top level, ma anche rappresentanti di istituzioni internazionali, quindi avremo sia esponenti di ICANN che esponenti della Commissione europea. Perché questo? Perché riteniamo che a livello di center si ritiene che sicuramente il multilinguismo sia un elemento di forza di internet e che quindi l'introduzione dell'IDN al top level rappresenti in quello che è il governo della rete un elemento di novità che sicuramente contribuirà a inserire all'interno della rete stessa nuove comunità, comunità che finora risultavano in qualche modo bloccate dall'inserimento in rete perché magari dovevano scrivere il loro nome e dominio in quello che potevano essere caratteri locali di alcune lingue, ma poi si ritrovavano dopo il famoso ultimo punto, l'ultimo dot, a dover scrivere il resto in caratteri ASCII. Ecco, si ritiene invece che l'introduzione dell'IDN al top level potrà portare appunto queste comunità a integrarsi meglio nella rete e quindi, ripeto, il multilinguismo contribuirà sicuramente a espandere le possibilità della rete stessa. Quindi questo è il workshop che porteremo, io sono il chairman del working group di Centra che ha curato questo workshop, questo è il workshop che sarà portato al prossimo IGF forum di SHARM. Dal lato invece di Eurid, una piccola notizia, è un piccolo contributo, è che il 10 dicembre saranno lanciati gli IDN sotto il punto EO, quindi noi non ci occupiamo per ora di quello che accade a livello di top level nell'ambito di Eurid, ma sarà lanciata la possibilità per tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea di registrare il nome e dominio nei propri caratteri perché saranno supportate tutte le 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea e questo accadrà il 10 dicembre. E anche in questo caso è un processo molto lungo che ha iniziato due anni fa perché ovviamente si tratta di venire incontro a 23 lingue ufficiali, pensando anche che, vi farà ridere, ma ci sono alcuni Stati membri dell'Unione Europea che non hanno idea di cosa sia una lingua ufficiale, nonostante nel momento in cui hanno aderito all'Unione Europea hanno indicato quale fosse la loro lingua ufficiale, ma nel momento in cui è stato loro richiesto di indicare quali caratteri per loro facevano parte e fanno parte della loro lingua ufficiale, non abbiamo avuto quella risposta immediata che magari abbiamo avuto da altri Stati membri. Quindi per noi la data, una delle date X per il registro italiano è stata il 28 settembre, per noi una delle date X sarà il 10 dicembre con l'introduzione degli IDN, che sicuramente rappresenta per il punto U il primo passo verso un multilinguismo e quindi verso l'allargamento a comunità estese. Questo era il mio intervento e ringrazio nuovamente dell'opportunità di essere presente a questo forum. Grazie. Grazie Giovanni. Il prossimo intervento, Valente non c'è, Stefano Giordano, professore dell'Università di Pisa. Mi sono portato il cronometro. Buonasera a tutti. Cercherò di stare nei tempi. Io mi riallaccio rapidamente a due affermazioni che ha fatto prima il dottor Laforenza, direttore dei diritti, in particolare i P25 e l'altra relativa alla collaborazione pubblico-privato. Tutto quello che è stato mostrato sugli aspetti di Future Internet, documentati anche dalle attività dell'Unione Europea, nel settimo programma quadro, è nato da un'iniziativa nella National Science Foundation, che qualche anno fa, in un programma che si chiama GENI, Global Environment for Network Innovation, ha chiesto ai migliori ricercatori americani come vedessero la rete nel giro di 20-25 anni. Quindi, nello stesso modo in cui la rete è nata in un contesto di istituti di ricerca e di università che, lavorando sul campo, hanno in qualche modo contribuito a cambiare la vita di tutti noi, come dimostrato ampiamente da questo forum, allo stesso modo oggi ci dobbiamo domandare come poter essere propositivi. Ed è interessante osservare che, sebbene noi ci immaginiamo questo processo con tanti ricercatori col cacciavite all'interno di un laboratorio, sono stati aiutati da aziende, da produttori di tecnologie di altissimo livello, quale Bolt, Beranek e Newman, chi si ricorda gli attori che parteciperano a quel progetto, sanno che non è stata solo un'azione dell'università, il primo nodo a UCLA donato, passato a Leonard Kleinrock, è stato costruito da altri. Allora, il nostro programma FIRE in Europa, Future Internet Research in Europe, cerca in qualche modo di emulare questo approccio virtuoso, di nuovo c'è una grande competizione per fare in modo che le università si organizzino per partecipare a questi progetti, ma in realtà manca questo aspetto fondamentale di una ricerca che non si basa soltanto sulla periferia della rete. Se andate a osservare, la stragrande maggioranza di questi progetti sono orientati alle applicazioni finali, a una virtualizzazione degli end system, a una virtualizzazione dei device che stanno all'esterno della rete. Dobbiamo tornare a fare qualcosa che ci permette di cambiare le tecnologie impiegate all'interno della rete, l'hardware che è usato all'interno della rete. Noi parliamo molto di open software, ma i nostri sono i tempi dell'open hardware. Possiamo realizzare apparati riconfigurabili, anche noi nei nostri laboratori stiamo lavorando su questi obiettivi, che ci consentono di ottenere elevatissime prestazioni, ci consentono di sperimentare quell'IP25 che oggi è assolutamente indispensabile, perché ormai ci siamo resi conto, e soprattutto ci sono resi conto i colleghi oltreoceano, che questo collante universale, il protocollo IP, è diventato l'elemento di sclerotizzazione della rete. Loro parlano di ossification, stiamo portando avanti un internet per patchworks, con un po' di bug fixing che cerca di tirare insieme un'infrastruttura che ha un sacco di problemi nella mobilità, nella sicurezza, nella qualità del servizio, eccetera. Nuove soluzioni alternative architetturali, l'IP25 di cui parlava prima il dottor Laforenza, potrebbero essere sperimentati di nuovo nell'ambito della ricerca, nell'ambito della collaborazione con le istituzioni, nell'ambito del rapporto tra pubblico e privato, però questa volta cercando di affiancare soluzioni innovative, qualcosa che nasce appunto da un modo europeo di fare ricerca, che come sapete si orienta all'ottimizzazione, alla ricerca di modelli che poi non sono quelli dei cantinari, dei garage californiani, ma che ci porta a qualcosa di diverso. E quindi auspico davvero da questa riunione che ci possa essere uno spunto per un'iniziativa coordinata a livello nazionale su un tema così importante come l'Internet del futuro. Grazie davvero. Conosco la passione del professor Giordano per il futuro della rete, ormai da un po' di tempo, e l'ha dimostrato anche stasera. Quindi nei due interventi che abbiamo avuto, sia nomi e dominio sotto il punto EU, e quindi futuro del registro EU. Fra l'altro l'istituto che dirigo a Roma è il National Validation Point per le registrazioni sotto il punto EU, dei nomi riservati. Quindi si ricostruisce quel percorso virtuoso che era nato nel periodo di Sunrise. Diciamo che mi auguro che possiamo continuare a svolgere questo ruolo di interfaccia giusta fra le esigenze dei cittadini, ma anche quelle che sono certi obblighi anche di ufficializzazione, il minimo indispensabile affinché tutto funzioni. Lo stesso, la passione per la nuova visione dell'hardware che ci è stata segnalata dal professor Giordano, la raccomando all'attenzione di tutti, di altri due. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.